Luigi Renna e il nuovo arcivescovo di Catania Congratulazioni e un caloroso benvenuto in Sicilia a Monsignor Luigi Renna, nuovo arcivescovo di Catania. Il suo arrivo alla guida della Chiesa metropolitana etnea è preceduto dall'apprezzamento unanime per il lavoro svolto anche nella qualità di Presidente della Commissione per i Problemi Sociali nella Conferenza Episcopiale Italiana. La Chiesa catenese troverà in lui guida e conforto per affrontare la difficile situazione sociale che purtroppo anche questa parte dell'isola vive. A Monsignor Salvatore Cristina il più sincero ringraziamento mio e dell'intero governo regionale per la dedizione e la competenza profusa nel suo lungo e apprezzato Ministero Episcopale, lo afferma il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.